Dopo l'armistizio vengono negoziati e firmati uno per uno i vari trattati di pace tra i vincitori e le potenze sconfitte. A partire da quello di Versailles il 28 giugno 1919 con la Germania, quello di Saint-Germain-en-Laye del 10 settembre con l'Austria, quello di Nueli il 27 novembre con la Bulgaria, quello di Trianon il 4 giugno 1920 con l'Ungheria e infine quello di Sevres il 10 agosto 1920 con l'impero ottomano. E al tavolo della pace emergono subito i contrasti tra una prospettiva realista, quella degli interessi strategici delle nazioni vincitrici, e una prospettiva invece idealista, che è quella sostenuta dal Presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson, basata sul principio di autodeterminazione dei popoli ed espressa nei 14 punti pubblicati l'8 gennaio del 18. Questi principi, oltre a proporre un riassetto dei confini europei sulla base del principio di autodeterminazione dei popoli, propugnavano anche la libertà di commercio e navigazione, l'abolizione dei trattati segreti, la riduzione degli armamenti e la formazione di una società delle nazioni che verrà effettivamente fondata, che tutelasse i diritti di tutte le nazioni, compresi i popoli colonizzati. Tant'è vero che le colonie tedesche e i territori ottomani e Medio Oriente saranno concessi a nuove potenze coloniali solo come mandato della società delle nazioni, con la prospettiva di una loro indipendenza in un futuro più o meno prossimo. Naturalmente a essere colpiti in maniera più dura sono proprio i paesi sconfitti, i quali versavano già in una situazione di grave instabilità economica, politica, sociale, con rivolte comuniste, rivolte nazionaliste, la formazione di nuove entità statali, le quali tendenzialmente sono riconosciute dai vincitori e in più i paesi sconfitti, considerati colpevoli dello scoppio della guerra, Germania in primis, devono subire norme molto severe a livello di mutilazioni territoriali, di riparazione di guerra, di disarmo, il che genera un forte risentimento in questi paesi e renderà quindi difficile la loro ripresa e favorirà sul lungo periodo lo scoppio della seconda guerra mondiale. Qui il caso più cospicuo è quello della Germania, la quale aveva nel frattempo represso le rivolte comuniste e dato vita a un regime repubblicano dominato da socialdemocratici e cattolici. A Versailles la Germania si trova costretta a cedere tutte le colonie, territori per la montagna di 65.000 km2 e 7 milioni di habitanti, soprattutto alla Francia e alla Polonia, e poi restrizioni militari molto rigide con l'abolizione della coscrizione, appena 100.000 uomini di esercito, niente aviazione, niente sottomarini, niente blindati, e infine 132 miliardi di marchi oro come riparazione di guerra e l'occupazione militare della Renania, la zona più ricca e industrializzata del paese, come garanzia. Lo stesso metodo di giudizio viene applicato ad Austria e Ungheria, trattati come due stati distinti. In Austria viene proibita la unificazione con la Germania, il cosiddetto Anschluss, per cui sorge il contrasto tra una capitale spropositata di 2 milioni di abitanti, Vienna, priva ormai dell'agricoltura ungherese, dell'industria bohema e governata dai socialdemocratici, i marxisti, di contro invece a tutta l'area urale dominata dai cristiano sociali, conservatori, che avranno la meglio. In Ungheria invece il rivoluzionario comunista Belakun proclama la Repubblica Sovietica Ungherese, ma viene repressa quasi subito dall'intervento militare romeno. Con il trattato di Trianon il Regno dell'Ungheria perde una percentuale elevata del proprio territorio, della propria popolazione, tant'è vero che il 31% degli ungheresi si ritrova al di fuori dei confini del nuovo Stato. E a scapito del nome gli alleati impediscono la restaurazione della monarchia sburgica, per cui governa un reggente, l'ammiraglio Miklos Horty, che impone un regime autoritario nazional-cattolico. In Bulgaria il trattato in Uellì sancisce la perdita di alcuni territori a favore di Grecia e Jugoslavia, però rimane al potere la monarchia, e il tentativo di riforma da parte di Alexander Stambolinsky, capo dell'Unione Agraria, viene sventato con un colpo di Stato militare. In tutti questi Stati, comunque, al netto dell'Austria, che ambisce più che altro a riunificarsi alla Germania, permane un forte revanchismo nei confronti della sconfitta, e soprattutto un forte redentismo dal momento che una parte consistente, la popolazione, è rimasta esclusa dai nuovi confini. Il caso più eclatante però è la Turchia, perché il sultano dell'impero ottomano firma l'armistizio, e poi col trattato di Sevre accetta di perdere tutti i territori al di fuori dell'Anatolia, con l'Armenia che diventa indipendente, il Kurdistan autonomo, la Grecia che annette Smirne e la traccia orientale. Francia, Gran Bretagna e Italia ottengono zone di influenza, e la stessa zona degli stretti è internazionalizzata. Però le forze armate turche, guidate dal generale Mustafa Kemal, l'eroe di Gallipoli, si ribellano a questa prospettiva e formano un altro governo ad Ankara. E Mustafa Kemal, appunto, ha la testa del suo esercito da inizio alla guerra all'indipendenza turca, con cui sconfigge, una dopo l'altra, gli eserciti delle potenze straniere che occupavano il territorio turco. Conclude la pace con i sovietici, con i francesi, e poi si rivolge contro i greci che stavano avanzando nel cuore dell'Anatolia con l'idea di vendicare il genocidio subito da parte degli ottomani durante la guerra. Nell'estate del 1922 i greci subiscono una sconfitta schiacciante e decisiva, per cui Mustafa Kemal può ora abolire il sultanato, firmare il Trattato di Lausanna del 24 luglio del 23, che garantisce la sovranità della Turchia all'interno degli attuali confini, e proclamare il 29 ottobre dello stesso anno la Repubblica di Turchia, di cui lui è fondatore con il nome di Ataturk, padre dei turchi. E a seguito del Trattato di Lausanna viene concluso un accordo tra Grecia e Turchia per uno scambio di popolazioni, cioè una sorta di pulizia etnica concordata legalmente, che coinvolge due milioni circa di persone, con cui i greci che vivevano nell'Anatolia e i turchi che vivevano in Grecia abbandonano i territori in cui avevano vissuto per secoli per rifugiarsi nello Stato a cui corrispondevano dal punto di vista etnico. D'altra parte anche i vincitori si rendono conto ben presto dell'elevato prezzo pagato per la vittoria, a partire dal costo economico e in termini di vita umane, e lasciando anche la parte della Russia che è scossa dalla rivoluzione bolshevica, dalla guerra civile, oppure l'Italia che ha la sua crisi politica e economica, persino Francia e Gambretagna comunque faticano inizialmente a mantenere la stabilità politica e sociale. Soprattutto cominciano a vedere messo in crisi il loro dominio coloniale. E tuttavia un'eredità positiva della grande guerra è sicuramente come conseguenza della mobilitazione bellica dell'economia il fatto che lo Stato mantenga un ruolo importante in ambito economico e sociale anche in tempo di pace. Non ultimo con lo sviluppo di ulteriori misure di assistenza sociale e di welfare per tutelare i veterani di guerra e le loro famiglie e mantenere quindi il consenso della popolazione. E da questa crisi iniziale nasce un periodo comunque di forte crescita economica. E' quello che negli Stati Uniti chiamano The Roaring Twenties. Infatti per gli Stati Uniti è un periodo di grande prosperità e crescita economica, ma anche di grande ambiguità a livello sociale perché viene ad esempio garantito il voto alle donne nel 1920 ma nel 1924 viene limitata fortemente l'immigrazione. Inoltre si diffonde il jazz, tipica musica afroamericana, ma anche l'attività razzista del Ku Klux Klan. Viene proibito il consumo e la produzione di alcolici con il diciottesimo emendamento ma aumenta quindi la criminalità organizzata soprattutto di origine straniera. E in politica estera è un periodo caratterizzato da un forte isolazionismo rispetto all'Europa, al netto dei soliti interventi militari e politici in America Latina. In quanto delusi dalla mancata applicazione dei 14 punti di Wilson, gli Stati Uniti rifiutano di ratificare i trattati di pace, ne firmano di propri separatamente. In compenso organizzano la conferenza di Washington che regola la dimensione delle flotte e la guerra delle grandi potenze. La Francia da parte sua avrebbe voluto imporre alla Germania condizioni di pace molto più dure. Arrivando ad annettere la Renania o almeno la Sars, si deve accontentare dei mandati coloniali in Africa, Cameron e Togo e in Medio Oriente, Siria e Libano. Ma soprattutto conclude una rete di alleanze in Europa centrale e orientale con i nuovi stati che sono sorti dal Trattato di Versailles con lo scopo di creare una specie di cordone sanitario che contenga da una parte l'Unione Sovietica e dall'altra eventuale revancismo dell'Ungheria e soprattutto della Germania. Si tratta di un'alleanza bilaterale con la Polonia e poi della piccola intesa. C'è una serie di alleanze con Cecoslovacchia, Jugoslavia, Romania. Questi quattro stati che nascono dai Trattati di Parigi sono caratterizzati da aver aumentato il proprio territorio a danno di Germania, Russia e Austro-Ungheria e di avere quindi una popolazione formata da molte etnie diverse. Il che anche in combinazione col fatto che sono stati di recente formazione fa sì che la loro democrazia sia molto instabile, molto fragile. Di fatto soltanto la Cecoslovacchia riuscirà a mantenere una solida democrazia parlamentare negli anni 20 e 30 avendo comunque ereditato una parte importante dell'industria austriaca e quindi avendo una società più moderna. Viceversa, in Polonia, dopo che sono stati consolidati i confini con alcuni scontri con i piccini, con i nazionalisti tedeschi dopo aver vinto battaglia di Varsavia contro l'armata rossa si afferma il regime guidato dal maresciallo Josef Pilsuski. Lo stesso vale con il regno dei serbi e dei croati degli sloveni che, come dice il nome, nasce dalla fusione tra serbi e Montenegro e i territori slavo-meridionali dell'impero austro-ungarico con un contrasto molto forte fin da subito tra i serbi da una parte e i croati dall'altra, per cui nel 1929 il re Alessandro I, che è serbo, impone una dittatura e cambia il nome in Regno di Jugoslavia. E Romania, allo stesso modo, che si è stesa annettendo la Bucovina, la Transilvania, la Bessarabia, quindi arriva a includere tutti i territori abitati da minoranze romene, si riuscirà a mantenere una democrazia, per quanto imperfetta, fino al 1938. Infine la Gran Bretagna formalmente aumenta la propria influenza perché ottiene i mandati coloniali della Tanganyika, parti di Kamerun e Togo, l'Africa del Sud-Ovest che va al Sud-Africa, la Nuova Guinea che va all'Australia, Nau e Samoa occidentali vanno a Nuova Zelanda, poi il Medio Oriente ottiene l'Iraq, la Transgiordania, la Palestina. Tra l'altro, con la dichiarazione di Balfour del 1917, vi ha dato sostegno alla causa sionista e quindi all'immigrazione ebraica nella Palestina. E anche sul piano interno, nonostante governi e conservatori, avviene un'espansione dello Stato sociale, l'UF-E-State, aumenta il potere dei sindacati, viene garantito diritto di voto anche alle donne nel 1928. Tuttavia, con la Prima Guerra Mondiale inizia anche l'ecolonizzazione dell'Empio Britannico. Questo processo, in parte, avviene in maniera pacifica e gestita da Londra, quindi con lo Statuto di Westminster nel 1931, uno che garantisce ulteriore autonomia ai cosiddetti dominios, cioè quelle colonie abitate principalmente da bianchi e ritenute quindi in grado di autogovernarsi. Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Irlanda, Terra Nova. Altrove, però, avviene attraverso scontri violenti, per esempio in India, dove vengono represse le rivolte col massacro di Amitsar, però poi viene concesso il Government of India Act del 1919, che garantisce maggior autonomia. In Egitto, dove avviene la rivoluzione egiziana, e nel 1922 l'Egitto da protettorato diventa regno indipendente, per quanto Canary Suez resta occupato dai britannici. Ma soprattutto l'indipendenza violenta di Irlanda è la nascita della questione nord-irlandese. L'Irlanda si era già ribellata durante la guerra, con la rivolta di Pasqua nel 1916, repressa inizialmente, ma poi nel 1919 era scoppiata una vera e propria guerra di indipendenza, con la guerriglia dell'Irish Republican Army, l'Ira, che nel 1922 aveva finalmente ottenuto un trattato di pace che divideva il paese tra lo Stato libero di Irlanda, dominio indipendente, e invece l'Irlanda del nord, abitata in buona parte da protestanti, che rimaneva britannica. Tant'è vero che questo trattato poi causerà una breve guerra civile tra gli stessi nazionalisti irlandesi, tra quelli favorevoli e quelli contrari. In conclusione, la prima guerra mondiale, costata circa 20 milioni di morti tra militari e civili, lascia un mondo travagliato dalle rivoluzioni, dalle crisi economiche e sociali, e in cui l'egemonia globale delle potenze europee è drammaticamente compromessa.